Ciao a tutti ragazzi e buona domenica, ve lo dico subito perché sapete che mi piace essere terribilmente onesto questo è un video riempitivo, è un video per fare due chiacchiere insieme a voi perché ieri ci siamo visti sì, ma con un contenuto che avevo registrato venerdì insieme a Gabbo quindi mi è mancato in realtà mettermi qua e fare due chiacchiere perché poi diventa una vera e propria routine e poi c'è quella mancanza, siamo ancora in quel periodo di quiete, quiete prima della tempesta dico tempesta perché da un momento all'altro secondo me il mercato della Juve esploderà e secondo me, sempre secondo me come avevo già anticipato in qualche video fa sarà subito dopo l'uscita di alcune squadre dagli europei quindi avremo secondo me ancora una volta un'altra decina di giorni di tante chiacchiere, pochi fatti però anche due chiacchiere così in tranquillità sono secondo me piacevoli per passare una buona domenica tra l'altro per me è un'ottima domenica non so se vedete qui alle mie spalle, qui, dovremmo avere qualcosa di nuovo sullo sfondo è una coppa, ieri mi sono dedicato una giornata di riposo e sono andato a giocare a Magic non so se conoscete Magic come gioco, ieri sono riuscito a conquistare un traguardo storico cioè campione italiano di uno dei formati di Magic che si chiama Legacy e ho intenzione assolutamente di portarvi un contenuto nel secondo canale in cui vi spiego tutta questa pazzesca storia ieri era il primo giugno e per me il primo giugno è sempre una giornata strana perché ieri è successo questo, l'anno scorso invece ero a giocare all'Allianza Stadium una partita rappresentando i colori della Juventus addirittura con la fascia che capitano della Juventus quindi il primo giugno è una giornata folle l'anno scorso purtroppo con anche tanto dolore per la morte del mio cane di dieci anni Axel quindi è sempre una giornata di questo tipo però il primo giugno di ieri è stato super positivo e dato che ero a fare questa roba qui mi sono ritrovato a giocare, anzi a guardare la finale di Champions League all'interno del bar della Bocciofila dove si è svolto questo torneo e dato che era un evento che durava tre giorni e un evento a cui partecipano anche tante persone anche da fuori Italia sono arrivati anche tanti tedeschi per giocare e alcuni erano tifosi del Borussia Dortmund vi ho messo qualche storia su Instagram magari vi metto qualcosa pure qui in sovraimpressione perché mai mi sarei immaginato di vedere una finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid appunto in una Bocciofila di Bologna in compagnia di alcuni tifosi del Borussia Dortmund che bevevano birre moretti cioè i tedeschi, la Germania, la patria della birra che si beve la birra moretti all'interno di una Bocciofila di Bologna mentre guarda il Dortmund in finale di Champions è stato pazzesco è stato un momento clamoroso anche perché facevano tanta confusione giustamente tanto supporto nei confronti della loro squadra è stata una partita anche molto strana secondo me io mi aspettavo decisamente la vittoria del Real Madrid perché non poteva essere altrimenti era una partita davvero impari era una partita quasi da Davide contro Golia però credo che il Borussia Dortmund abbia retto bene l'impatto del Madrid il Madrid non mi sembra aver fatto chissà quale tipo di partita di prestazione poi ha avuto qualche occasione certo ma lo stesso Dortmund ha avuto delle occasioni importanti non concretizzate nel modo migliore mi viene in mente il palo o quell'uno contro uno con Courtois insomma ci sono state davvero tante situazioni un po' così poi io come dico sempre e non me ne vogliate ma il Real Madrid è l'unica squadra che mi fa veramente pensare che ci sia qualcosa all'interno dello stemma quando giochi la Champions con la maglia del Real sempre qualcosa di diverso sempre qualcosa di diverso e se mi viene in mente il modo in cui il Real ha eliminato il Manchester City di Guardiola e poi vinto la Champions di risera mi viene davvero da dire è possibile che nella nostra storia con nuovi finali raggiunte siamo riusciti a conquistarne soltanto due e a quanto pare è possibile a quanto pare una roba di questo tipo è possibile è molto strana è molto bizzarra però capisci anche che le finali poi sono degli eventi diversi degli eventi secchi degli eventi in cui se poi indossi la camisetta blanca e c'è in palio una Coppa dei Campioni tutto diventa più semplice ma davvero tante riflessioni da fare perché questi stanno salutando centrocampisti cioè il centrocampo delle tre Champions di Villa Casemiro Modric Cross ormai non è più il centrocampo titolare di Madrid Casemiro non è più lì Cross andrà via Modric ha 39 anni cioè e comunque non erano dei titolari magari ne giocava solo uno magari ne giocava a zero hanno avuto un ricambio generazionale il centrocampo clamoroso dietro quest'anno si sono rotti tutti i centrali più il portiere hanno giocato per tanto tempo senza centrali e col terzo portiere eppure davanti hanno ceduto Ronaldo Benzema hanno giocato praticamente senza un vero nove quest'anno e all'interno di una semifinale pescano Iosellu che giocava in seconda divisione spagnola e fa la doppietta decisiva cioè ci sono troppe cose che mi fanno veramente incassare mi fanno incassare fanno incassare perché penso e noi invece tutte le volte che arriviamo lì già abbiamo fatto l'impresa siamo super gasati perché sono per loro la normalità perché sanno che poi va a modo loro io non riesco più ad analizzare le Champions del Real in maniera in maniera logica utilizzando la logica non ce la faccio non ci riesco e quindi complimenti a loro complimenti a Lancelotti complimenti al Real che l'anno prossimo aggiungerà altri tasselli importantissimi già dichiarati sul mercato ne dico uno un bappé pazzesco a parametro zero qualcosa di fuori di testa e alla fine vinca sempre loro spero che possa essere finita qui ma 15 Champions League ragazzi non si vengono per caso tornando alla Juve ho letto un bel pezzo su Tutto Sport di Schira di Nico Schira e voglio commentarlo insieme a voi perché si parla di un Summit che avrà la Juventus a breve con Alessandro Lucci procuratore molto famoso nel panorama calcistico italiano e che tra gli altri all'interno della Juve è rappresentante di alcuni giocatori che sembrano essere in uscita Kostic che ha iniziato da Panchinaro e ha finito da Panchinaro in mezzo a una stagione praticamente da titolare a bassissimi livelli Moise Ken che era già stato ceduto praticamente a gennaio all'Atletico Madrid e poi è tornato indietro per qualche problemino fisico Mattia Perin che ha salutato io l'ho visto alzare la Coppa Italia mentre salutava lo stadio perché sembrava veramente un addio da Juve bloccato di Gregorio ma forse c'è la volontà di far uscire Szczesny però bisogna trovare la sua stimazione anche a Perin perché Perin vuole giocare titolare non si sente una riserva e credo anche che per il livello della Serie A Perin faccia bene a non sentirsi una riserva e un classe 92 vuole finire questi ultimi 7 magari anche 8 anni che può avere 6, 7, 8 penso che da portiere possa avere quel periodo lì poi ovviamente gli ultimi anni da primo poi dovrà iniziare a condentarsi di ruoli un po' più marginali anche in squadre diverse da quelle come la Juve però fa benissimo per me Perin a chiedere di andare a giocare e poi c'è Nicolussi mi ha già discusso tante volte è un giocatore che piace in giro e piace anche al Bologna e perché Lucci diventa un incastro interessante perché tra gli altri Lucci è il procuratore pure di Riccardo Calafiori che oggi è l'obiettivo numero uno della Juventus di Tiago Motta e Tiago Motta secondo le indiscrezioni di quelli più informati dovrebbe firmare il suo contratto con la Juventus proprio in queste ore e magari avere l'annuncio già martedì martedì è un po' il giorno che sembra stato indicato da tutti vediamo se alla fine sarà davvero quello oppure no insomma la Juventus prepara questo summit la Juventus si prepara a discutere di tante uscite si prepara a discutere di un ingresso è un ingresso che poi dovrà fare i conti anche col Basilea perché c'è una percentuale sulla rivendita del calciatore bisognerà capire la Juve se riuscirà a incastrare alcuni profili magari proprio quello di Nicolussi o magari anche quello di Moise Kemp perché comunque il Bologna andandosi a giocare la Champions avrà necessità di inserire alcuni giocatori che la Champions l'hanno già giocata che hanno esperienza che sanno come vivere quelle robe lì secondo me Kemp ha bisogno di una squadra senza particolari pressioni una piazza senza particolari pressioni ma anche ambiziosa ecco per me Bologna potrebbe essere una buona piazza per Moise Kemp poi non so dal punto di vista economico di ingaggio di cartellino se questa roba è possibile però io la butto lì fatemi sapere se secondo voi può essere una buona idea così come vedo molto bene Perino al Monza Kostic credo che sarà destinato ad andare fuori dall'Italia però l'Iventus sta iniziando a incastrare tutte queste trattative lo sta facendo anche con una singola persona quindi un gran risparmio di tempo perché ci si mette lì ci si siede magari a partire dalla mattina si fa un bel pranzo e poi si discute e si cerca di sistemare alcune cosettine alcune cosine all'interno di questo puzzle perché poi ripeto tra dieci giorni in stagli europei e quindi un altro discorso ma la Juve deve portarle avanti queste trattative e poi magari quando l'Italia uscirà dalla competizione o vincerà la competizione andare ad affondare a chiudere quello che oggi sembra essere l'obiettivo numero uno e cioè Riccardo Calafiori ragazzi come vi avevo detto in apertura era un video molto molto tranquillo però spero che siete arrivati fino a questo punto ascoltandolo con interesse avevo voglia di fare due chiacchiere con voi e noi ci vediamo domani sperando di commentare qualche notizia un po' più cicciosa perché vince sempre la Real Madrid e ditevelo voi grazie a tutti